per quanto riguarda i lavoratori italiani. Lavoratori italiani del settore metalmeccanico che sono impegnati nel rinnovo del contratto nazionale e si sono scontrati duramente con Federmeccanica. Hanno trovato proprio un muro davanti, un po' come già fu nella vicenda della Fiat che invece è uscita da Federmeccanica, ha addirittura inventato un suo contratto. Poi magari ci ritorneremo su questo, ma adesso qual è la materia del contendere con Federmeccanica? Sostanzialmente i punti che Fium e Wilm non ritengono oggi accettabili è quello che non ci sono aumenti salariali sulla paga oraria. Gli aumenti disponibili da parte Federmeccanica sono quelli che vanno sulla previdenza integrativa o anziché quella sanitaria, su Wilm sono disponibili a mettere dei quattrini che però sostanzialmente finirebbero per non aumentare la paga oraria dei meccanici un po' così come in Fiat insomma, perché noi abbiamo il premio che non incide più sulla paga oraria ma sono dei lunatari. E' un altro punto sugli orari, oltre che da parte mia, parlo tanto per essere chiari da una posizione e la posizione di Gilles sindacato è un'altra cosa e la piattaforma che si contesta va bene contestarla ma non ha dei punti determinanti che possono mobilitare tutti i metà meccanici perché di fatto dentro questo non si contestano non è vero che non si contesta il ruolo dell'RSU sugli orari del lavoro è un po' troppo blanda, mi sembra che sia un'unità forzata che va bene per carità noi siamo per l'unità dei lavoratori e dopodiché credo che la piattaquama non sia abbastanza forte a poter proseguire una lotta per un contratto vero. Quindi Pasquale non è come le altre volte che ci sono quattro ore di sciopero in vista di un aumento della lotta, forse questo sarà uno sciopero così, solo parziale, solo una tantum? Il mio dubbio, la mia paura è questa, perché manca una piattaforma che possa davvero unificare dei metà meccanici che riesce anche a mettere insieme a questo punto non solo più il contratto dei metà meccanici ma anche per quelli che sono esclusi come i lavoratori FCA oggi è chiaro che il rischio che potrebbe esserci che quella meccanica apra con un piatto di lenticchie la discussione sul salario e che si rende a chiudere un contratto che però di per sé peggiora le condizioni dei lavoratori. Ecco, però non si è mai visto un contratto dei metà meccanici con un aumento zero o diciamo zero virgola e questo dipenderà molto dalla risposta dei lavoratori. Da questa prima giornata che cosa hai fiutato? che aria tira considerando che è uno sciopero unitario? Guarda, qua in questo corteo per dirla, in verità che l'abbiamo provato a contare, abbiamo intorno al 2005-3000 lavoratori e gli scioperi, tieni conto che la rottura sindacale ha pagato un prezzo, non tutti i lavoratori sono disponibili a stare sotto tutte le bandiere, per cui la partecipazione dalle fabbriche sembra buona, gli dati sembra che siano buoni, nella piazza un po' meno, però paghiamo questo scotto insomma del fatto che poi a Torino non avendo il gruppo Fiat, nella manifestazione è evidente che ha il suo peso, per il resto penso che solo continuando la lotta con una piattaforma un po' più vera si può provare a vedere una piazza migliore. Certo, senti io un'ultima domanda te la voglio fare fuori sacco come si dice, ma non allontanandoci dal tema, Bertinotti dice che il movimento operaio è morto, in questi giorni sui giornali si parla molto del cambiamento della manifattura, dell'industria manifatturiera dopo la crisi o in queste fasi della crisi. Io però voglio sentire che cosa dice un lavoratore, anche se è un lavoratore in cassa integrazione, è un lavoratore di Torino perché Torino è la prima città che aveva e ancora mantiene un volto manifatturiero, qual è appunto il polso della situazione raccontato da un lavoratore. No, al punto della situazione innanzitutto vuole che un ex compagno come Pausto di un giudizio così sbagliato perché insomma il movimento operaio sa come è composto, sa come è composto a Torino, sa sicuramente non si è messo in buona compagnia, se preferisce Formigoni alla classe operaia mi sembra che era un problema suo e dopo di che la classe operaia esiste, purtroppo molto frassagliata, molto pregariato è entrato, anche grazie a tutti i giorni di c'è la classe operaia esiste, è chiaro, va riorganizzata da un lavoro, la classe operaia è stata usata per massacrare il mondo del lavoro, guardano che la classe operaia esiste, basta andare davanti ai cancelli e vederla quando esce dalle fabbriche con le sue fatiche o quando escono ormai rovinati anche solo da un centro commerciale, se la classe operaia operaia esiste e chiaro va riorganizzata sotto parole d'ordine che siano un po' più unificanti che come oggi, anche oggi i metà meccanici di solito avanzavano delle proposte, adesso non mi sembra che si parli di precariato, non si parla di nulla, non riusciamo a unificare quello che il mondo del lavoro è, perché ormai è frassagliato, non possiamo non vederlo, e il suo punto è che la classe operaia c'è e con questo bisognerebbe fare nei conti, lo stesso Belfinotti e pochi pensi di rappresentare una sinistra dove vederne nei conti. Ecco appunto tu hai toccato, perdonami se insisto su questo punto, tu hai toccato l'elemento della rappresentanza, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista sindacale, nessuno sembra rendersi conto più che rappresentare la società reale, le classi lavoratrici e anche i cittadini è un elemento importante della democrazia e che una volta abbandonati a se stessi poi però possono riservare delle sorprese sul medio e anche breve periodo e cioè una società che non si conosce è una società che può sviluppare molto caos. Certo sì, infatti rilasciare un po' il campo libero, perdendo delle parole d'ordine come l'uguaglianza, il rispetto, la solidarietà, lo vediamo anche purtroppo anche nelle fabbriche, non è cosa di oggi ma quello che è il distacco tra classe ormai c'è ed evidente, l'altismo purtroppo c'è, nonostante tutto l'impegno che ci mettiamo non riusciamo a incanalarlo in una giusta direzione, è chiaro che tutto questo non unificare una prospettiva uguale per tutti i lavoratori e i cittadini, insomma porterà un caos, la mia paura è forte su questo tema. Evidentemente dobbiamo lavorare di più, per costruire una cosa diversa, anche se oggi non ne vedo le condizioni. Certo, certo Pasquale. Pasquale io ti ringrazio di questa chiacchierata, ti auguro un buono sciopero e anche, visto che c'è tutta, il proseguimento della lotta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.